Ciao a tutti, vi faccio questo video per condividere una cosa curiosa che mi è successa qualche giorno fa a proposito dei furti delle biciclette, quindi cosa mi è successo? A me mi avevano rubato una bici, tornando a casa verso le 11 di sera l'ho ritrovata, l'ho vista, l'ho riconosciuta subito ho deciso di andare a casa per prendere una catena di modo da legare la bici in modo che il ladro o quello che l'aveva comprata non avrebbe potuto portarsela via di nuovo torno con la catena in mano e trovo due stranieri con la mia bici in mano che stavano in quell'istante andando via aspetta, 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 non andando, questo è il mio bici gli spiego la situazione e cerco di dirgli guarda ho una denuncia, questa è una mia, te lo posso dimostrare ho una denuncia regolare siccome faceva uno cenno di andare via, prendo su il telefono e gli faccio un video a sorpresa quindi la situazione è un po' surreale, l'altro ragazzo che si è spaventato ha tirato fuori il telefono anche lui io gli ho detto fammi il video pure te magari anzi così mi aiuti gli spiego che quella era la mia bici quando gli ho fatto vedere la denuncia che avevo fatto regolarmente dopo il furto dove c'erano scritti tutti i dettagli questi sono un po' rammaricati, sono scusati, mi hanno detto ah no ci dispiace mi hanno spiegato che sapevano benissimo che le bici erano rubate e loro le avevano comprate e me l'hanno ridata e mi hanno detto ma non vai dalla polizia vero? gli ho detto no tranquilli tranquilli e alla fine ci ritroviamo a prendere il caffè tutti quanti a casa mia boh tutto qua se vi rubano la bici mettete la catena e chiamate la polizia è meglio che chiama la polizia oh è sempre occupato quando chiamo